Questa cosa non doveva succedere secondo me ragazzi lì dentro c'è qualcosa di misterioso Dobbiamo raggiungere in questo episodio almeno Yeeeeh Non recidivano i piaci Orlani bentornati a un nuovo video sul canale Oggi siamo nella serie Fine del mondo Una serie che vi sta piacendo veramente tantissimo E non posso che ringraziarvi perché gli scorsi video sono andati un sacco bene E questo è anche grazie al vostro supporto con un mi piace ed un commento E proprio dei commenti parliamo oggi perché nel primo episodio vi siete fatti molti domande Su come io possa essere arrivato in questo punto Come io posso aver guadagnato della glowstone Come io possa essere arrivato nel nether E ragazzi oggi vi risponderò a tutte queste domande Semplicemente facendovi vedere tutti i bunker che prima mi hanno accompagnato a questo bunker finale Faranno schifo ragazzi perché non pensavo di essere ancora lontano da SFR Oggi ve li farò vedere tutti per bene piano piano E vi racconterò un pochino tutto La prima cosa che vi dico è che sicuramente la domanda più importante che mi avete fatto Era come mai mi fosse venuto fuori l'achievement quando ho ucciso il mostro Semplicemente ragazzi quell'achievement è venuto fuori Perché giocando in un server molte volte I codici dei giocatori si buggano Si resettano Può capitare sempre E non so se lo sapete Ma era successo anche nella vita in città Ma non ve ne eravate probabilmente accorti Quindi semplicemente era questo da dire Questa è la parte di tunnel che mi ha portato poi al tunnel finale Se vedete tutti questi buchi qua con tutte le torce Tutte queste cose qua È perché o probabilmente c'era del ferro O probabilmente c'era del coal Non sempre nel tunnel l'ho preso Perché effettivamente non ne valeva la pena prenderlo sempre Mi sembrava giusto non prenderli tutti ogni volta Comunque da questa parte ragazzi c'è una caverna bellissima Dove ho trovato un sacco di materiali Che sono quelli che appunto vedete Perché ne ho così pochi di materiali? Semplicemente perché li ho persi Cadendo in una pozza di lava Che adesso vi farò vedere Questo è il primo bunker Il penultimo Il penultimo bunker che ho costruito Prima di arrivare al bunker finale Le cest ovviamente sono vuote Perché mi sono sempre portato via tutto Ci sono un po' di materiali da costruire Esattamente questi qua Gravel, granito, diorite eccetera eccetera Perché vabbè questi qui Quando fai i tunnel Ovviamente ci sono Da questa parte non c'è niente E questa era la stanzetta Dove appunto avevo fatto crescere Il mio primo alberello Il mio primo no perché non è il primo Però è il primo alberello di questo bunker Ovviamente tutta la terra l'ho ripresa E per rispondere anche alla domanda Come mai ho la pala così consumata Semplicemente perché A furia di prendere gravel A furia di riprendere la terra Eccetera eccetera Capitano queste cose essenzialmente Poi Qui avevo appunto Dove avevo la coltura di grano E ragazzi per la coltura di grano Vi rispondo anche un'altra domanda Come ho ottenuto la glowstone? Ovviamente ragazzi Sono andato nel nether E ovviamente Per andare nel nether Ho preso dell'ossidiana Come ho preso questa ossidiana? L'ho presa col piccolo indiamante Che ho perso Quella volta che sono caduto nella lava Ho perso piccolo indiamante I leggings indiamante Che avevo trovato in una cesta Ho perso tutti gli attrezzi Non avevo tutta l'armatura full Per fortuna Ho perso Non mi ricordo cos'altro Però ho perso un sacco di cose Con la volteria Adesso vi farò vedere anche il punto Dove sono caduto Perché mi direte Ok Marci Possibile che tu sia caduto lì Se vi state chiedendo Perché nello scorso episodio Ho detto che erano i primi diamanti Che trovavo Semplicemente erano i primi diamanti Da quando ero arrivato In quel bunker Per quanto riguarda invece Questo bunker Ragazzi niente Finisce qua Questo l'avevo costruito solo Perché pensavo fosse Appunto quello finale Pensavo che Steff e Fere Fossero molto vicini In questo punto qua Ma in realtà poi Non era così E ragazzi Purtroppo si può sbagliare Ovviamente non ho mai Registrato Barra giocato Quanto hanno registrato Steff e Fere Perché io ci giocavo Un po' nei tempi morti Perché volevo andare appunto Prima o poi A scoprirli A sventarli Alla fine adesso Siamo collaboratori di bunker Infatti gli ho portato le cose Che ho trovato nel vecchio Nel villaggio Che sono andato ad esplorare Peraltro In quel villaggio Mi avete detto che c'è una casa Che ancora non ho esplorato Voglio andare dopo Comunque a vederla Per vedere se c'è qualcosa Poi da questa parte A destra Si va nel prossimo bunker Che è quello Punto fatidico Quello che mi ha fatto Cadere Sotto Ora potete capire Perché sono caduto sotto Perché semplicemente Prima Non c'erano queste cose qui Questi muri di wall Questi muri di cobblestone Io cosa ho fatto Qua era così Considerate Ero qui che guardavo Che materiale ci fossero sotto Perché se notate Ho preso praticamente tutto Forse ho avanzato un po' di ferro Da qualche parte Tipo quello lì Che non ho preso Ma qua sotto C'era del ferro Vete in quel buco lì Sono andato lì a prendere il ferro Sono tornato su Ho rivisto che c'era sotto Del lapislazolo Là nell'angolo Per andare a prenderlo Mi sono caduto qua dentro Ho preso danno Da caduta E sono caduto nella lava Poi facendo Non facendo in tempo Andare nell'acqua E qui ho perso Completamente tutto Vediamo se in queste ceste È rimasto qualcosa È rimasto un po' di coole Poi solite cose Che tanto non ci servono Poi da questa parte Appunto La spazzo di bunker Dove avevo fatto Da questa parte Qui nell'angolo Avevo messo il primo alberello Invece il grano L'avevo messo in modo spartano Da questa parte Qui c'era il pezzettino Di terra E qua dietro c'era l'acqua Che poi semplicemente Facevo crescere una volta Perché non aveva abbastanza semi Non avevo ancora farmato Più di tanto Poi qua sicuramente C'era del nostro Aspetta un attimo Che qua Conviene che io rimetto Il pezzettino di wall Che sono capace di ricadere E di fare lo stesso errore E non vorrei che succedesse Questa cosa Poi da quest'altra parte C'è un altro bunker Che è l'ultimo Che vi farò vedere Perché se volete vedere I due bunker Che sono quelli segreti Dobbiamo raggiungere In questo episodio Almeno i 10.000 Mi piace Secondo me Ce la possiamo fare Quindi niente Andiamo da questa parte Questo bunker Che starete per vedere adesso E anche il più carino Perché era uno Che era stato costruito All'interno di un'insenatura Che non ho mai esplorato Perché ho sempre voluto Ho sempre detto Beh questa insenatura Quando magari inizierò a registrare Ve la farò vedere Quindi magari in uno dei prossimi episodi Ci andiamo Miniamo E troviamo un sacco di cose Che serviranno Nel bunker mio Di Steph E di Fere Niente Da questa parte appunto C'era lo spazio Con tre pezzi di terra In realtà Uno da questa parte Uno da questo Dove appunto Avevo fatto crescere Due alberelli Molto interessante Come cosa E niente Semplicemente così Poi da questa parte C'è finalmente Il mio portale Del nether Bellissimo Incredibilissimo E vi starete chiedendo Ma perché non te lo sei portato via Questo portale del nether Semplicemente ragazzi Quando ho fatto L'altra zona Non avevo ancora fatto Tutta la roba Di riprendere le cose Da qua dentro Eccetera eccetera E ho perso il piccone in diamante Quindi questa roba qui Non posso tuttora Prenderla Perché il piccone in diamante Non ce l'ho Poi da questa parte Ci sono un po' Uh Questo me lo prendo Poi da questa parte Ci sono altre cose Classiche Qui non c'è niente Ma sai che ti dico Io queste cose qui Le prendo Non le avevo prese Perché sono sempre stato pieno Ad andare via Con il La cobblestone E queste cose qua E nella fine Non l'ho mai preso Da questa parte appunto C'è il nostro Guarda Guarda Che qua è tutto aperto Qua mi sa che è esploso Un creeper ragazzi Perché non me lo ricordavo Chiuso Lo chiudo con un po' Di granito E Boh Per adesso basta Lasciamo così In seguito ragazzi Qua in fondo C'è il villaggio Se giro a destra E salgo Dove appunto Sono sceso la prima volta Se volete vederlo Anche questa volta Vi chiedo 10.000 Mi piace Sono tantissimi Però Ne vale veramente la pena E se non volete perdere il video Dove appunto Ve lo farò vedere Iscrivetevi al canale Che è molto importante Adesso ragazzi Che vi ho fatto vedere Praticamente tutti i bunker Ci tengo ad andare Nel villaggio Quello dell'ultima spedizione Perché mi avete detto Che un paio di case Non le avevo viste Quindi voglio assolutamente Andare a vederle E vedere se là dentro Essenzialmente c'è qualcosa Che ci siamo dimenticati Perché Potenzialmente Potrebbe essere Come cosa Come potenzialmente Potrebbe non essere Non lo so Ci conviene andare a vedere E vedere bene Peraltro Prima di andare avanti Io voglio far vedere Che ho preso appunto Un po' di grano Che l'avete visto sicuramente Nell'inventario prima E ho messo un altro Arboscello A crescere Semplicemente Rompendo l'altro Ho creato anche Delle forbici Con il quale Potevo avere delle foglie Che mi hanno droppato Solo un sapling Perché sono stato Super sfortunato Proviamo a vedere Se adesso Spaccandolo Mi viene fuori almeno Un altro sapling Eccolo qua Un altro sapling E vai Vediamo un po' Se con le shares Esce Perché c'è la probabilità Credo che possa uscire Un sapling Non lo so Non so se funziona Più così Ma mi ricordo Che nelle vecchie versioni Se tu prendevi Con le shares Poteva comunque Uscirti Un sapling piccolino Qua non c'è Non c'è più niente Siamo un po' sfortunati Qua Non va mica bene Questa cosa Un altro Dammi un altro Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego Niente Niente sapling E che dobbiamo fare Va bene così Comunque Niente Abbiamo fatto queste cose qua Io direi che adesso Con la nostra crafting table Segreta Bellissima Posso andare a prendere Un pochino di pane Ancora E mi metto da parte Queste cose qua Uno Due E tre Perfetto Ma voglio farvi una domanda I bunker segreti Che non vi ho fatto vedere Secondo voi Dove sono Dove posso averli creati Scrivete sotto nei commenti Secondo voi Dove sono Perché potrebbe essere Molto interessante E se avete altre domande Su come ho raggiunto Appunto questa base Ditemene tranquillamente Perché vi risponderò Tanto io tutti i commenti Li leggo E mi ero segnato Tutte le cose Che mi avete chiesto qua Adesso vedete tutto bianco Perché purtroppo Non si vede Tutto sia tutto bianco Non si vede Però effettivamente Mi ero scritto le cose Che dovevo dirvi E mi sembrava comunque giusto Darvi una spiegazione È arrivato un momento Di andare verso il nostro villaggio Sperando che Secondo me ragazzi Cosa di misterioso Altro che di segreto Di misterioso Non lo so Perché è una stanza Messa così nel nulla Chiusa Che nessuno può vedere Che cosa c'è dentro Mi sembra un pochino sano O comunque qualcuno Ci potrebbe essere già passato Questo non lo sappiamo Però noi ci andiamo E andiamo a scoprire Dobbiamo stare molto attenti Perché mi avete detto Che quei villaggeri Potrebbero essere Molto ma molto pericolosi E dopo proverò A colpirne uno Sperando che non mi faccia Troppo danno E sperando che non mi uccida Perché Non lo so Ho paura in realtà Forza che ci siamo quasi Eccole qui le scale Adesso Dobbiamo salire E cercare di stare Molto attenti Perché non voglio assolutamente Prendere danno Anzi dobbiamo Possiamo prendere danno Ma dobbiamo stare molto attenti Perché non ho la mela d'oro Per tornare su questa volta Allora Mettiamoci assolutamente La roba antiradiazioni Ok messa E adesso possiamo andare a vedere Se c'è qualcosa Dobbiamo correre subito 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 Ok abbiamo pochissima vita Dovrebbe essere la casa Che c'è qua davanti Quindi facciamo il giro da qua Vediamo dovrei farcela Esattamente Ecco questa qua dovrebbe essere Proviamo a scendere da questa parte Proviamo a scendere da questa parte Guarda che c'è qua già il vetro C'è uno zombie C'è uno zombie Ok proviamo a ucciderlo Vediamo se mi da qualcosa Ok metto della carne marcia Qua non c'è niente Qua è bucato Lì c'è la porta aperta Ma mi sa che questa porta Non portava nessuna parte Aiuto ragazzi Va bene devo tornare su Devo tornare su assolutamente Sali Ok Mamma mia ma pochissimi cuori Devo stare molto attento Molto attento Ok Dai No non riesco Non riesco capire dove devo andare Qua era Ok posso scendere E recuperare la vita un attimo Oh mio dio Quasi 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 morivo Ok siamo di nuovo full vita Devo guardare Un attimine Fare un'ispezione Molto molto veloce Per capire se c'è qualcosa E capire anche se questi villageri Sono super cattivi Voglio provarci Vediamo No no mi seguono Mi seguono No 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 Ragazzi sono cattivi Sono super cattivi Non posso vedere Ok No sto morendo ragazzi Muoio Muoio Stavolta muoio Devo assolutamente uscire Devo assolutamente scendere Devo assolutamente scendere Metti qua Metti una fornace Metti una fornace Non possono scendere Da qua no no sto scendendo Stano scendendo Aiuto 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 Mi sto seguendo Mi sto seguendo Aiuto 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 Qua devo mettere assolutamente Questo qua qua Questo qui qui No non può scendere da qua Qui non può scendere Ok Mamma mia ragazzi Questa cosa Non doveva succedere Cioè ragazzi Abbiamo rischiato Di compromettere tutto Mamma mia ragazzi Mamma mia Oh mio dio Adesso ragazzi Torno a casa Ma vi metterò una clip Con il quale Potete guardare La reazione di Steph e Fere Quando gli ho dato le cose Che appunto Gli ho portato Da questa prima spedizione Io adesso vi saluto Commentate se avete altri dubbi Ci vediamo in un prossimo video Da Marce è tutto Ciao a tutti